Allora, dopo aver visto, diciamo, le applicazioni del teorema di De L'Hopital al calcolo di limiti, vi lascio alcuni esercizi di calcolo dei limiti attraverso le regole di De L'Hopital. Quindi, volume blu 5 plus del Bergamini, a pagina 1696, provate a fare gli esercizi 5, 13 e 15. Detto questo, volevo vedere, diciamo, un'ultima applicazione del teorema delle regole di De L'Hopital, che va sotto il nome di teorema del tappabuchi. Però, prima di enunciare questo teorema, vorrei con voi fare una riflessione sulle funzioni definite a pezzi. Allora, supponiamo di considerare una funzione f di x uguale a g di x, ad esempio, per x maggiore uguale di x con 0, e uguale ad hx per x minore di x con 0. E supponiamo di porci il seguente problema. Stabilire se questa funzione è derivabile in x con 0. Assumiamo, naturalmente, che g sia derivabile e che anche h sia derivabile. La richiesta è verificare se f è derivabile in x con 0. Allora, come abbiamo proceduto fino ad ora? Fino ad ora abbiamo seguito la seguente metodologia. La prima cosa è Stabiliamo Se f è continuata in x con 0. Questo vuol dire che dobbiamo fare il limite per x che tende a x con 0 più di f di x, che in questo caso è g di x, vedere se questo limite è uguale a x che tende a x0 meno di h di x, e poi, naturalmente, deve essere uguale a f di x con 0, che in questo caso, naturalmente, è g di x con 0. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è verificare la continuità in x con 0. Il secondo fatto che dobbiamo fare è questo Verificare Se esiste il limite per x che tende a x con 0 più di g' di x, ed è uguale al limite per x che tende a x con 0 meno di h' di x, e, naturalmente, questi due limiti, oltre ad essere uguali, devono essere finiti. In tal caso, diciamo che esiste la derivata prima di f in x con 0 ed è uguale a questi due limiti. Allora, questa è la ricetta, diciamo, per stabilire la derivabilità della funzione f nel punto x con 0. Naturalmente, la domanda a questo punto diventa questa. Perché? Perché questa ricetta è corretta? Perché pongo questa domanda? Perché, in realtà, se io dovessi verificare la derivabilità di f in x con 0, Quindi, per verificare la derivabilità di f in x con 0, dovrei verificare che esistono i seguenti due limiti. Quindi, il limite destro del rapporto incrementale, quindi, gx meno g di x con 0 fratto x meno x con 0, deve essere uguale al limite sinistro del rapporto incrementale, hx meno h di x con 0 fratto x meno x con 0, e questi due limiti, oltre ad essere uguali, devono anche essere finiti. In tal caso, esiste la derivata prima di x con 0 ed è uguale a questi due limiti. Allora, abbiamo quindi due procedure. L'ultima procedura è quella sicuramente corretta, perché si basa sulla definizione di derivabilità nel punto x con 0, e poi abbiamo l'altra procedura, quella che abbiamo utilizzato fino adesso, che naturalmente è corretta, perché generalmente non racconto cose sbagliate, però effettivamente questa procedura richiede una giustificazione. Adesso daremo la giustificazione di questa procedura a partire proprio dall'applicazione della regola D dell'Opital. Quindi, enunciamo quello che va sotto il nome di teorema del tappabuchi. Teorema del tappabuchi. Allora, sia f una funzione definita sull'intervallo aperto x con 0 meno a, x con 0 più a, a valori in r, con a maggiore di 0. Ora, siccome il nostro obiettivo è quello di andare a studiare la derivabilità in x con 0, ci interessa conoscere la funzione f soltanto in un intorno di questo punto. Introduciamo le ipotesi di regolarità della funzione f. Quindi, sia f definita da x con 0 meno a, in x con 0 più a, valori in r, continua su x con 0 meno a, x con 0 più a, è derivabile sull'intorno aperto stellato di x con 0. Cioè, in sostanza, a priori, non sappiamo ancora se questa funzione è derivabile in x con 0. Va bene? Se esistono i seguenti limiti, limite per x che tende a x con 0 più di f di, f primo di x, chiedo scusa, ed è uguale al limite per x che tende a x con 0 meno di, f primo di x, e questi due limiti, oltre ad essere uguali sono finiti, allora esiste la derivata prima in x con 0 ed è uguale al limite per x che tende a x con 0 più di f primo di x, che è uguale al limite per x che tende a x con 0 meno di f primo di x. Dunque, il teorema del tappabuchi permette sostanzialmente di giustificare in modo rigoroso la procedura che abbiamo sempre utilizzato per verificare la derivabilità di una funzione a pezzi, per esempio in un punto in cui la funzione cambia espressione. Orbene, vediamo la dimostrazione. La dimostrazione è una applicazione della regola di De L'Hopital. Perché? Perché andiamo a considerare il limite f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Evidentemente, questo limite è una forma indeterminata 0 su 0. Attenzione! È una forma indeterminata perché f continua in x con 0. Ecco l'importanza di richiedere la continuità di f è 0, perché essendo f continua in x con 0, è chiaro che il numeratore va a 0, e ovviamente il denominatore va a 0, perché la x è chiaramente una funzione continua. Allora, adesso cosa facciamo? Proviamo ad applicare la regola di De L'Hopital. questo diventa il limite per x che tende a x con 0 di che cosa? Di f primo di x diviso 1. Ma per ipotesi questo limite esiste. Questo limite esiste e appartiene ad R. Dunque, esiste anche il limite di questo rapporto incrementale che, come sappiamo, è proprio la derivata prima di x con 0. Quindi, il teorema del tappabuchi risulta essere dimostrato. Consideriamo adesso la seguente funzione. Allora, la seguente funzione sostanzialmente è un controesempio al teorema del tappabuchi. Cioè, stiamo considerando una funzione che effettivamente non è continua non è continua in x con 0 va bene non è continua in x con 0 però esiste sicuramente il limite sinistro e il limite destro di questa funzione e questi due limiti sono uguali che appartengono ad R. Osservate che addirittura in questo esempio ho messo la tangente destra e la tangente sinistra addirittura orizzontale. Va bene? Tuttavia, questa funzione qui non è derivabile in x con 0 va bene? Pur essendo questo limite destro uguale a questo limite sinistro. Perché? Perché non è continua. Noi sappiamo che una funzione derivabile in x con 0 è chiaramente continua in x con 0 e allora è chiaro che se non è continua in x con 0 non può essere derivabile in f di x con 0. Non può essere derivabile in x con 0. D'altra parte, se andiamo nuovamente nella dimostrazione, osserviamo che se facciamo questo limite qua, questo limite qua va effettivamente all'infinito. Perché? Perché il numeratore non va a 0 mentre il denominatore va a 0 e quindi non possiamo applicare la regola di De L'Hopital.